Ciao Marvel fans, ci dispiace non essere passati al D23 ma stavamo lavorando duramente al nuovo film di Deadpool, da molto tempo ormai. Per questo film ho davvero cercato dentro di me, ovviamente per la sua prima apparizione nell'MCU serve qualcosa di speciale, ma dobbiamo restare fedeli al personaggio, dobbiamo trovare una nuova intensità, una nuova motivazione. Tutti i film di Deadpool devono distinguersi e tutti devono spiccare. È stata una sfida incredibile che mi ha costretto a cadere in basso, in profondità. E poi... niente. Sì, solo completamente vuoto qui dentro. È terribile. Ma avevamo un'idea. Ehi, Hugh, vuoi fare Wolverine ancora una volta? Sì, certo, Ryan. Aspetta, non chiudere il video. Ci sono altri contenuti che potrebbero interessarti. Facciamo crescere questo canale. Un mondo, un popolo.